È bello sempre segnare di più in Serie A. Era un sogno che avevo da tanto tempo. È arrivato ma io devo pensare solo a lavorare e fare meglio perché penso che il gol arriva lavorando duro e penso che devo lavorare ancora per fare meglio. È stato bello perché è stato il mio primo gol in Serie A e voglio continuare a farli tanti. Mi sono dimenticato di fare il festeggio per mia moglie che sta aspettando una bambina e voglio dedicarlo a lei, a mio figlio e a tutti in Uruguay. Quello che volevamo come procuratore è scegliere una squadra per fare bene e penso che ho scelto bene perché adesso che la sto vivendo mi piace tanto la società, come lavora e stanno sempre con noi e stanno sempre a disposizione e vogliono fare grandi cose e quello che mi piace. Mio nonno è stato quello che mi ha spinto a fare questo che adesso mi piace tanto e ogni volta che faccio gol quella dedica che faccio in cielo è per lui. Mi ricordo poco perché l'ho perso da piccolissimo, però quello che mi ricordo è che lui mi ha spinto a fare quello che amo. Sì, scherziamo, scherziamo un po' tutti, non è che scherziamo solo con quello del mio ruolo e tratto di parlare con tutti, di ascoltare a tutti perché Spogliatoio si impara tanto e niente, è un grande gruppo. Quello che scherza di più è Torosi, quello è top e dopo si scherza tanto con Chris e Tic. Dopo io sto più con Eric e con Gianca che parliamo la stessa lingua. Un'ultima cosa, c'è magari un aneddoto, una pubblicità particolare della tua carriera che non hai mai raccontato, magari anche simpatica che vorresti raccontare? Un episodio, magari qualcosa di simpatico che ti viene in mente? Simpatico è quello che ho fatto a Terni, che facevo il video che sta su YouTube di Mario Bros, che è quello che mi è rimasto una cosa bella. Ciao!